Vi spiego perché secondo me l'intervista di oggi di Walter Mazzarri, prima intervista da neo allenatore del Napoli, da neo tornato allenatore del Napoli, è secondo me ottima. Non dico perfetta ma ottima. Innanzitutto c'è un tono diverso da quello che aveva Garcia, un approccio diverso con i giornalisti, lui si siede, inizia a guardare con occhio vispo, parlo di Garcia il giornalista, magari con qualcuno ci fa anche la litigata di turno, invece oggi Mazzarri aveva il fare di, non lo so, un vecchio amico che incontri al bar, si siede e ti fai una craccherata dopo tempo che non lo vedi. Aveva proprio questo fare qua, questo fare da quanto tempo che non vi vedevo, è bello essere qua, pacione, non so come dirvi, non era distaccato come Garcia, poi Garcia è un francese, stiamo passati da un francese a un toscano, però un approccio diverso e già questo è bello, perché mi dà fiducia, uno che si siede tranquillo, bonaccione, si mette a, io vi ripeto, vi ricordo che non sono un tifoso del Napoli vecchio, nonostante io abbia la barba, il pizzetto, io ragazzi il Napoli di Mazzarri purtroppo non l'ho visto, avevo, parliamo del 2009, 2010, fino al 2013, ma avevo 8-9 anni ragazzi, ma cosa voglio aver visto di quel Napoli là? L'ho visto dai video, quindi oggi è la prima volta che vedo Mazzarri come si comporta in un'intervista, sinceramente è molto piacevole, anche questo senso di esperienza che lui trasmette, forse un po' troppo su questa cosa dell'esperienza è andato, cioè nel senso, continuo a ripetere, ma io ormai sono esperto, non posso rispondere, sono un esperto, sa come fare, ok, ma io lo so, me lo dai questa impressione di esperto, non c'è bisogno che la ripeti sempre, però poi effettivamente la risposta ci sta quando un idiota, perché è un idiota, come Auriemma ti chiede, cosa rispondi a quelli che ti danno del bollito, è lì che devi rispondere, o lo mandi a quel paese, o gli fai la battuta, e lui ha fatto la battuta, però sull'approccio in campo Mazzarri mi ha stupito, perché è stato tremendamente realista, cioè il Napoli sta messo male, noi dobbiamo risolvere i problemi che ci stanno nella partita, cioè sono qui per risolvere i difetti microscopici anche che il Napoli commette, perché secondo lui il Napoli c'è, il problema è che ha dei difetti che vanno curati, e questo mi piace un sacco, e poi mi piace un sacco la voglia che ha trasmesso di voler lavorare, cioè la voglia di lavorare sugli uomini che ha, e anche questo è tanta roba, poi vabbè si sono sprecati i paragoni, Osimen sarà il tuo Cavani, Kvaraschelia sarà il tuo Lavezzi, Ziedischi sarà il tuo Amsic, ma sostanzialmente quello che gli ha risposto ai giornalisti è sono giocatori diversi, ma ci voleva lui per rispondervi che Ziedischi non è Amsic, che Kvaraschelia, grazie a Dio, non è Lavezzi, perché dico grazie a Dio? Perché secondo me Kvaraschelia è più forte di Lavezzi, Osimen è più forte di Cavani, ma d'altronde quei giocatori là con tutto quello che erano forti, ho visto i video, giocate clamorose, contro piedi a campo aperto, due contro tutta la difesa, spettacolari, però sono giocatori che al conti fatti non ti hanno fatto vincere mai uno scudetto, questi sì, quindi per me Mazzari veramente ha per le mani una squadra forte, e se può portare gli stessi risultati che portò con quella squadra di quel Napoli, ma con questi giocatori qua che per me sono più forti, potrebbe anche fare ottimi risultati, la Champions, non chiedo tanto, la Champions, non lo so, qualificarci agli ottavi, non so, magari vincere una Coppa Italia, che è molto snobbata di questi tempi, ma a me quest'anno vincere una Coppa Italia non dispiacerebbe affatto, la stagione si può salvare, e non è detto che la devi salvare per forza arrivando secondo o vincendo lo scudetto, assolutamente no, quindi in sostanza a me Mazzari ha ispirato innanzitutto tanta concretezza, anche per come parla di tattica, ha detto subito, io per ora devo fare il modulo che il Napoli è abituato a fare, perché se no a questi gli fotto il sistema, gli fotto un qualcosa che loro hanno già nelle corde, ovvero il 4-3-3, magari poi piano piano introdurremo un altro modulo, ma io so fare tutti i moduli, cioè la fierezza, la sicurezza con cui dice queste cose è molto confortante, e poi la voglia di lavorare, la voglia di lavorare che mi ha trasmesso, che sinceramente mi mancava, cioè Gazzia non ha mai dette certe cose, ci metteremo a lavorare, gli spiegherò, andremo a correggere, Gazzia non ha mai dette queste cose, cioè non lo so, è un'impressione, magari me le sono perse quando le ha dette, ma non mi risulta. Comunque, comunque, per me è un'intervista quasi perfetta, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa prima intervista di Mazzarri, da neo allenatore del Napoli, da neo ritornante allenatore del Napoli, e noi ci vediamo alla prossima. Bella a tutti, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!